A Teramo i dipendenti della IMR Industriale Sud dalle 5.30 di domani incroceranno le braccia e saranno in picchetto fuori all'azienda per dire no allo svuotamento dello stabilimento terramano e lanciare un SOS alle istituzioni affinché si attivino con l'apertura di un tavolo unitario che vede insieme regione, impresa e sindacati di Teramo. Sì, preoccupa, noi non facciamo altro che comunque riconfermare quello che dicemmo nell'ultima conferenza stampa che praticamente da quel momento in poi abbiamo cercato in tutti i modi di avere anche un incontro a livello istituzionale, un incontro anche con l'azienda, però c'è stato un tiro e molla che alla fine ci ha portato a decidere che domani faremo 8 ore di sciopero davanti ai cancelli dall'Industriale Sud. Ripeto, noi non abbiamo mai detto che l'azienda è in crisi, non abbiamo mai ventilato una chiusura perché non è così, vorremmo semplicemente che le relazioni industriali siano un po' più marcate e soprattutto frequenti perché quando abbiamo una problematica noi non abbiamo un punto di riferimento con cui confrontarci. A preoccupare i 530 dipendenti e i sindacati ci sono le azioni che l'azienda sta mettendo in atto da qualche tempo, che lasciano pensare ad una graduale delocalizzazione di progetti macchinari verso gli stabilimenti di recente acquisizione di Iesi e Rieti. I più preoccupati da questa condizione sono i circa 140 dipendenti cosiddetti somministrati che con contratti settimanali lavorano per l'IMR Industriale Sud. Ci hanno detto che alcune commesse verranno spostate, però qui ci dovrebbe essere un rimpiazzo che noi attualmente non sappiamo qual è. Quindi e poi abbiamo anche chiesto altresì che se c'è un calo di lavoro e non vengono rinnovati dei contratti interinali, quantomeno un avviso tre, quattro, cinque giorni prima alle organizzazioni sindacali, ma non a quelle esterne, alle RSO interne, dove si dice che c'è stato un calo di lavoro, purtroppo non abbiamo potuto rinnovare. Non vogliamo venirlo a scoprire dai tesserati che hanno il contratto interinale, che ci dicono da domani non ce lo hanno rinnovato. Grazie. 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 Grazie.